Il traduco in diretto Ah, la so che si dice wing Te dimmi, qual'è il vantaggio che trai dall'avere il gioco in italiano? Semplicemente a mezzanotte, quando sono a mezz'ora incoglionito, non voglio star via a tradurre Ma se devi spaccare molte, basta, non è che c'è da capire un po' Aspetti che ti si dichiarino le gemelle, no? Eh sì, ormai abbiamo una liaison in italiano Cagli il cazzo, quasi quanto io voglio fare quelle cose qua, è quasi allo stesso livello Cosa vuoi essere per giocare ai giochi in inglese? No, su rompi i colline c'è delle prontate Che non farai anche fra te Ma che altro mi sembra più pratico, no? C'è il zero bisogno di capire, poi il materiale per le build che sono in inglese C'è non parla di abilità che usiamo, c'è non è che ci bisogna sconoscere dal gioco a memori Mi hai rimesso al giudizio di neg E' comoda, perché non è che mi hai chiesto il mio giudizio proprio Perché sto dicendo qualcosa di neg Che schiazzate E' tra la sua, non guardo mi sa di Surtro del disco Ma poi si che se parli in inglese questo giorno Se mi torna a casa ve li parlavi in dialetto e in italiano Che suon'è tantino da un cavolo Edna stannatina sono arrivato al bar Di fin ato della vista Scendo dalla macchina Arriva il direttore di servidimento Con il mio capo E il direttore di servidimento voleva fare lo splendido E mi fa Ah, ecco ti pagare la servidimento stannatina E mi diro, e ho non preso proprio No, no, ma diceva Mauro, non è certo che Mauro mi è caldo Ho riso per ore, ore, ore Ma poi in qualche azienda mi vergognerei anche a fare una cosa di genere Sì, ma il direttore è al super potere di dire la cosa meno fortuna nel momento di sbagliare Ma non è pensato di Assa che si ostima di dargli cane e non di Assa Perché se mi chiamò poco trofeo... Ancora Ma non puoi lasciare il gioco acceso stano se stai sul cazzo di cane se lo levi dalle palle Scusate, l'ho messo solo adesso, 5 minuti Ma attendi 2 mesi che hai il cane Ma se devi sempre il cane, se devi sempre Mamma mia E' pazzesca la velocità di spostare questo Più veloce delle ali del Valtra E' la super abilità del nostro gruppo E' la super abilità del nostro gruppo E' un tank E' tipo quelli nascosti, quelli che si sbloccano a livello... No, ci sono mille Credo che adesso i puki puki si deve essere a rischiare Se fossi il puki puki mi vedessi arrivare un magnolo di queste dimensioni E' meno di una cazzo Ah, è come se avessi fatto il bombardino contro il Todut No, non il Malzeno, il Dio è buono e molto buono, lo sciogarde. Ecco la sua bella scaracchiata. Come se a un certo punto ti arriva Mike Tywin che ti vuole prendere a cazzotti. No, però la gigantietta è questo. Oh, ma comunque la ruota ha un'imprecisione che non ha alcun senso. Oh no! un altro schiaffi anche il quadrati che si arriva sui gatti che risponde ai gatti hanno zanni a piazza anche quello c'è altro beh, è proprio... l'haka-kuga è più veloce da fare le attacchi guardiamo in Miloria ok 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 Eeeh, sì! Come è? Per sbloccare? Aspetta, forse però può me anche, magari prendere i materiali per sbloccare il prossimo slot dell'Armando. Eh, infatti, quello sto buttando. A me serve la zanna dura... Quanti slot hai sbloccato? Devo sbloccare il livello 3, mi sembra. Mi serve la... l'artiglio funesto più. Attende un po' desto... ... 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